Buonasera e benvenuti all'Infinito dentro un bisogno. L'incontro, la trasmissione di approfondimento del mondo del volontariato e del non profit a cura del Centro Servizi per il Territorio Novara VCO. Abbiamo parlato spesso anche nelle precedenti puntate di sussidiarietà, di solidarietà, di come la comunità sia necessaria proprio per lo sviluppo, per essere a servizio del bene comune. Ecco, con gli ospiti di oggi parleremo di un'associazione che è a servizio in particolare delle esigenze sanitarie della comunità e in questo caso vedremo come il tema della sussidiarietà è proprio eclatante, nel senso che senza questo tipo di realtà di associazioni sarebbe veramente difficile fornire un servizio fondamentale ai cittadini e alle persone del nostro territorio. Oggi parleremo quindi di Corpi Volontari del Soccorso, sono con noi due volontari di un'associazione ben radicata sul nostro territorio che è il Corpo Volontari del Soccorso di Omenia. Sono con noi il Presidente Renzo Sandrini. Buonasera e grazie per aver accolto il nostro invito e un volontario, Alessandro Gamba, che si occupa in particolare della formazione dei volontari che è un tema importantissimo. Buonasera Alessandro e grazie per aver accolto il nostro invito. Grazie a voi. Allora, partiamo subito col Presidente Renzo. Allora, innanzitutto un po' di storia perché è anche utile e interessante capire come nascono queste associazioni sul nostro territorio, perché, in che circostanza, proprio un po' la storia, lo scopo per cui questa associazione è nata. Sì, la storia dell'associazione è già piuttosto lunga, proverò a sintetizzare gli elementi fondamentali. Allora, tanto per iniziare l'associazione nostra quest'anno compie 50 anni dalla sua fondazione. È nata nel 1973 per gestire una situazione che era già in essere da tempo e il fondamentale della nostra attività è il soccorso e il trasporto di feriti e ammalati. Evidentemente un'attività di questo tipo nel 73 era già in essere da parecchi anni ed era fino allora stata gestita all'interno del Comune di Omenia, tramite gli uffici preposti all'epoca, con le regole dell'epoca, all'assistenza alle persone. Era realizzata all'interno con un misto tra attività erogata da dipendenti del Comune e una quota di volontari che erano sia persone, siano le stesse persone che facevano l'attività per conto del Comune, che al di fuori dell'orario di lavoro si prestavano ad erogare quei servizi. Perché si prestavano a erogare quei servizi è ancora l'elemento fondamentale che ci tiene uniti e che allega la nostra associazione. E cioè era prestare soccorso e prestare assistenza, finora era possibile ovviamente, perché poi l'ambito sanitario, anche volvendosi, configura degli scenari per cui ci sono altri professionisti che devono intervenire. Però il primo soccorso e il trasporto di questi ammalati era già l'elemento fondamentale che generava questa pulsione. E quindi il fondamentale della nostra associazione è quello di offrire aiuto sostanzialmente a chi ne ha bisogno. In che anno siete nati quindi? Siamo nati nel 73 e nel 73 c'è stata una persona che è doveroso ma anche per me un vero piacere ricordare, Eugenio Alberganti, che era con il padre Federico, si occupava all'interno del Comune di questa attività, ma si occupava soltanto, a differenza di oggi, non soltanto perché guidavano un'ambulanza, registravano, recepivano le chiamate, ma all'epoca costruivano le ambulanze, le adattavano secondo i bisogni, le necessità emergenti venivano generate, affrontate direttamente sul posto, gli accorgimenti, gli innumerevoli accorgimenti che Eugenio ha portato alle ambulanze dell'epoca fanno la nostra storia vera, quella dei contenuti veri, perché lì dentro c'è tutto lo spirito che all'epoca si metteva in atto per affrontare le esigenze, per affrontare la domanda che ci veniva posta da parte della popolazione. Abbiamo fondato l'associazione, come ho detto, nel 1973 e da lì è iniziata l'avventura in autonomia. È un'avventura che non portiamo avanti soli perché abbiamo dei rapporti evidentemente con altre strutture analoghe. Ecco, per dare l'idea proprio dell'impatto che ha la vostra attività sul nostro territorio, sulla nostra comunità, magari proprio raccontando nello specifico i servizi che erogate ai nostri cittadini, anche qualche numero proprio per rendere l'idea. Allora, un numero che rappresenta in modo pur generico la nostra attività, facciamo circa 6.000 interventi nell'anno. È un dato ormai consolidato, interventi che si articolano in diverse azioni evidentemente. Quella più visibile è il collaborare con l'emergenza sanitaria territoriale, il cosiddetto 118. La nostra associazione da tempo supporta l'attività 118 che, lo ricordiamo, è erogata dal Servizio Sanitario Nazionale. Noi la supportiamo mettendo a disposizione però ambulanze, quindi mezzi di trasporto, autisti e soccorritori che collaborano con medici e infermieri e si integrano. La sede dell'ambulanza medicalizzata che fa riferimento al territorio del Cusio, dell'intero Cusio, è proprio presso la nostra associazione e da anni supportiamo questa attività. Le altre attività sono il trasporto di ammalati su richiesta o delle persone stesse per le loro necessità, ma la quota maggiore è su richiesta degli ospedali attraverso una centrale operativa di cui si è dotato questo territorio che ha sede a Gravellona, che recepisce la domanda degli ospedali e organizza al meglio questa attività di trasporto e che ci impegna quotidianamente in maniera consistente. Più alcune attività programmate, ad esempio il trasporto dei dializzati, che è un'attività che viene realizzata sempre su richiesta e su indicazione dell'azienda sanitaria locale o il trasporto di persone disabili per conto, per consorzio dei servizi sociali. E se un privato avesse delle necessità dal punto di vista proprio, insomma, fisico per le proprie difficoltà? Ci può chiamare tranquillamente. Ecco, allora una sottolineatura che va fatta. Il privato se ha necessità di un intervento in emergenza deve chiamare il 118. Non può rivolgersi direttamente alla nostra struttura perché quell'attività è gestita da una centrale operativa che ha sede Novara e decide, sceglie, valutando i contenuti della richiesta, che qual è il mezzo più opportuno da far intervenire, quale mezzo, dove è dislocato il mezzo, a seconda se quel momento il servizio sta rientrando da un servizio e a disposizione. Quindi di fronte all'emergenza non deve chiamare direttamente voi, ma il 118. Il 112. Adesso è quello che io continuo a chiamarlo 118 perché sono stati accorpati tutti i numeri in questo 118. Perché nella percezione delle persone comuni il 118 è ancora al mezzo, il numero che fa riferimento al mezzo di soccorso. Ormai è un'etichetta, un brand che è stato apposto. Correttamente il numero è il 112. Facendo il 118 in automatico si viene passato al 112. Ah, infatti era proprio per poter dire anche ai telespettatori, se qualcuno avesse delle necessità, comunque il 112. Dopodiché... Se invece ha necessità di un trasporto che non è promosso direttamente dai presidi ospedalieri o dalle altre, dalle altre... Magari una persona ammalata, in difficoltà, che deve fare una visita, andare in ospedale... Che ha bisogno... Esatto, può rivolgersi al nostro storico numero di telefono, 61-900... Perfetto. E prendere accordi per organizzare il trasporto. Benissimo. Ecco, quanti volontari avete? Volontari sono 87 volontari al momento. È un numero variabile, non è un numero fisso per una serie di entrate, uscite. I volontari ormai devono essere registrati formalmente in un registro, perché scattano così anche le coperture assicurative, tutto un meccanismo che è diventato molto molto articolato. E poi c'è, sì, insomma, adesso c'è l'adesione al registro unico del terzo settore, insomma, con essere di adempimenti. L'età media dei vostri volontari? E allora, l'età media ci sono giovani che ovviamente come spirito guardano più ai servizi di emergenza. Certo. E poi ci sono invece persone anche anziane, e sottolineo l'anziano in termini molto positivi, perché danno una grande disponibilità di tempo. Forse c'è un'idealità anche forte. Esatto. Questo vuol dare la comunità. Esatto, perché alla fine della fiera la nostra attività. L'associazione è uno strumento, è un mezzo che mette a confronto necessità delle persone con disponibilità dei volontari, che non sono altro che altre persone, a dare un aiuto a chi ne ha bisogno. E come tutte le cose della vita, i fondamentali non sono la parte tecnica dell'intervento. vengo, ti carico, ti accompagno. Ma la relazione che si instaura con queste persone, e quindi guardarsi in faccia, parlarsi a seconda delle capacità delle persone, delle situazioni, è l'elemento che gratifica senz'altro tutte le persone che si mettono a disposizione. Ha a che fare con situazioni anche l'emergenza, dove una persona ha bisogno forse di essere rassicurata. Insomma, è importante proprio il rapporto, ancora di più che magari rispetto a... Non solo è importante, ma è gratificante. Certo. Perché è l'elemento che spinge a fare una scelta e soprattutto noi lo vediamo a mantenere la scelta. perché sono persone veramente anziane che danno una disponibilità incredibile. Ecco, per diventare volontari, immagino ci sia un percorso formativo, cioè non ci si può improvvisare soprattutto in questo ambito. Ecco, Alessandro Gamba, sei formatore, raccontaci che cosa bisogna fare, come... Sono un istruttore 118, un istruttore DAE, il percorso formativo per diventare soccorritore, quindi volontario soccorritore, è disciplinato da una determina della Giunta regionale del Piemonte sulla base di un protocollo formativo condiviso dal 118 e dalle principali associazioni di volontariato, quindi Ampas e Croce Rossa. Si articola fondamentalmente in un percorso teorico-pratico della durata di 50 ore, all'interno del quale vengono svolte attività, quindi di acquisizione delle nozioni fondamentali e si comincia a operare con l'utilizzo dei presidi che abbiamo a disposizione, al termine di questo percorso formativo c'è un esame a cui partecipa un rappresentante del delegato del 118, superato questo esame si viene messi al tirocinio pratico protetto a bordo dei mezzi di soccorso. Durante la parte teorico-pratica è stato integrato da qualche anno l'obbligo di conseguire l'abilitazione e l'utilizzo del defibrillatore, cosa che ormai i soccorritori non possono prescindere dall'avere. Durante il tirocinio pratico protetto della durata di 100 ore si opera direttamente a bordo dei mezzi di soccorso, noi abbiamo la fortuna di avere una delle tre stazioni che ospitano il mezzo di soccorso avanzato, quindi la medicalizzata, quindi a bordo del mezzo oltre ai due soccorritori ci sono il medico e l'infermiere e quindi sicuramente la possibilità di imparare molte cose. E la formazione immagino è un elemento fondamentale per tutta la... anche una volta che si diventa volontari è molto importante continuare, no? Aggiornarsi. Esattamente. Una volta conseguito il titolo di la qualifica regionale di soccorritore 118, bisogna poi ovviamente mantenere aggiornata la propria formazione, anche perché l'evoluzione della scienza, della tecnica, porta sempre ad inserire nuovi equipaggiamenti, nuove attrezzature. Da ultimo, per esempio, noi sulla medicalizzata abbiamo a disposizione un'attrezzatura che si chiama Lucas, che è un massaggiatore automatico, quindi abbiamo avuto la necessità di formare nuovamente il nostro personale sulla base di queste attrezzature nuove che vengono periodicamente inserite. Quindi nel nostro programma annuale c'è la formazione di tutti i volontari, ovviamente siamo stati un attimo fermi durante il periodo del Covid, perché per forza maggiore siamo dovuti rimanere fermi, però... Ecco, anche proprio dalla formazione che fate si capisce che questa è un'esperienza che dà anche proprio delle competenze, no? Oltre un'esperienza umana importante, si acquisiscono delle competenze. E questo è un po' l'obiettivo anche di tanti ragazzi che scelgono di fare il servizio civile universale. C'è questo anno in cui mettono a disposizione 25 ore, mi sembra, settimanali, hanno anche una retribuzione, un rimborso spese di 430... Poco meno di 450 euro al mese, sì. Poco meno di 450 euro. Ecco, voi avete fatto, avete avuto, avete l'esperienza con i giovani del servizio civile universale, non so se volete raccontarla, più che altro magari c'è qualche giovane che ci ascolta e potrebbe essere interessato a dire, guarda, potrei farmi un'esperienza, anche proprio per il mio futuro professionale, tra l'altro, no? Personalmente ritengo che sia un'esperienza che raccomando vivamente ai giovani perché dà effettivamente una formazione e soprattutto avvicina a quello che sarà poi il mondo del lavoro. Quindi capisco che magari il trattamento economico sia abbastanza limitato, ma dà comunque tanti sbocchi. In ogni caso consente di conoscere l'ambiente di lavoro, conoscere le persone, conoscere l'attività e avere il contatto con le persone, che è una cosa non indifferente. Presidente, l'esperienza con i servizi civilisti, come è? Allora, l'esperienza con i servizi civilisti è senz'altro un'esperienza positiva. Noi abbiamo sempre avuto uno, due civilisti che lavoravano all'interno dell'associazione. Siamo un filo in difficoltà, noi nella nostra zona, ma ho sentito che anche a livello regionale ci sono dei problemi perché l'offerta di posti disponibili per questa attività non corrisponde ed è molto superiore alle domande che in realtà si presentano. Noi abbiamo chiesto per il 2023 fino a sei unità e abbiamo avuto soltanto una domanda. E dicevo, il problema è recepito ed è uguale a livello regionale, tant'è vero che Ampas regionale alla quale noi aderiamo sta approfondendo la problematica per cercare di capire e spiegare meglio quali sono i vantaggi per queste persone che vengono a fare, per i giovani che vengono a fare questa attività, anche per il loro futuro. Alessandro diceva che per fare il volontario è necessario fare dei corsi di formazione molto approfonditi. Questi corsi che vengono erogati anche al personale che fa servizio civile conferiscono loro comunque un titolo che potrebbe essere speso da loro anche per un lavoro vero e proprio perché nelle associazioni come le nostre hanno per la maggior parte personale volontario ma soprattutto per supportare alcune attività particolari utilizzano anche una quota di personale dipendente. Quindi si apre uno scenario per loro è come se acquisissero un titolo di studio che consente l'accesso a posti di lavoro comunque qualificati. Anche perché vediamo a livello un trend direi non solo regionale, non solo nazionale ma internazionale di diminuzione di numero di volontari un po' legati anche al calo demografico ma sicuramente anche una concezione diversa di appartenenza a un'associazione mentre è in crescita il numero di persone che entra a lavorare nel non profit e questo proprio perché si rendono conto che coniugare un lavoro anche con un'idealità con una tensione ideale rispetto a rispondere ai bisogni per tante persone diventa una scelta liberante cioè veramente una grande opportunità proprio per la loro vita e quindi questo sicuramente è l'altro filone nel senso le associazioni noi parliamo di non profit e di volontariato ma non è fatto solo da volontari sono fondamentali perché senza i volontari mancherebbe proprio la risorsa fondamentale però c'è anche la possibilità invece di lavorare per una realtà non profit e questo in base ai settori alle inclinazioni, agli interessi io sono un esempio lavoro in centro servizi per il volontariato adesso si chiama centro servizi per il territorio siamo un'associazione di associazioni più 213 associazioni e lavoro nel non profit però siamo una struttura organizzata insomma quindi questo sempre per poter dire che ci sono diverse opportunità che il mondo del non profit può offrire prima di tutto sicuramente quella del volontariato su cui si regge ecco abbiamo parlato dell'importanza delle risorse umane in queste associazioni sono importanti anche le risorse economiche quindi quali sono le vostre fonti di finanziamento quali sono i rapporti con gli enti quindi immagino pubblici o chi sostiene questa realtà allora fonti di finanziamento in ordine di importanza sono la convenzione l'attività di supporto al servizio di emergenza territoriale è realizzata in convenzione con il servizio sanitario regionale ed è remunerata è remunerata tenendo conto però che almeno la metà del personale impiegato deve essere volontario questa è una scelta che Regione Piemonte ha fatto da tempo ed è di supportare l'attività di emergenza territoriale con le associazioni di volontariato perché di questa scelta immagino dalla Regione Piemonte perché così è il territorio che esprime la disponibilità delle persone a fare anche un'attività che oggi è diventata molto ma molto tecnologica potrebbe essere fatto una scelta di passare a tutta con operatori dipendenti che sarebbe sarebbe in qualche modo accettabile visto il livello di competenze che vengono richieste si perderebbe però la vicinanza del territorio la vicinanza intesa nel senso di persone che si offrono volontariamente a fare questa attività perché poi i meccanismi di assunzione non potrebbero tenere conto di limiti territoriali altra fonte di finanziamento come dicevo il trasporto degli ammalati per conto per conto degli ospedali la nostra realtà ospedaliera distribuita con ospedali distribuiti sul territorio richiede tantissima mobilizzazione di pazienti è una prerogativa è una caratteristica di questo territorio noi vediamo vediamo queste richieste vediamo la dimensione di questo fenomeno ed è veramente importante perché l'80% della nostra attività è proprio riferita delle nostre uscite è proprio riferita al trasporto di ammalati il 5 per 1000 ce l'avete? il 5 per 1000 lo richiediamo costantemente è una risorsa importante? sì è importante anche perché è una fonte che ci lega al territorio ci testimonia la disponibilità delle persone se non a mettersi in gioco o a disposizione come volontari comunque a riconoscere il valore di quello non dico dell'associazione ma dell'attività che fanno i volontari che sono due cose differenti e il rapporto con le altre associazioni del territorio come le altre realtà non profita altre associazioni volontariato abbiamo abbiamo due livelli che sono uno il livello che riguarda la nostra attività nel senso che proprio il settore a cui noi facciamo riferimento noi aderiamo ad Ampas nazionale attraverso il contatto diretto con Ampas regionale e quindi già siamo inseriti in questo meccanismo poi Ampas regionale articola la sua operatività di supporto alle associazioni con dei livelli intermedi per cui a livello provinciale ci sono dei comitati che operano su coordinamento di Ampas regionale e poi abbiamo anche delle attività nostre a parte i contatti continui con le altre associazioni abbiamo esiste una centrale operativa come ho accennato prima che coordina i trasporti sanitari i trasporti di ammalati dagli ospedali e quindi mette in relazione le varie disponibilità dei vari enti e poi per esempio noi a Omenia abbiamo costituito un consorzio fatto da alcune associazioni di questa provincia per gestire degli apparati di comunicazione che erano nati originariamente per l'attività di emergenza potrebbero essere allargati anche al di fuori delle attività nostre ok allora siamo veramente in chiusura purtroppo il tempo scorre velocemente però ci tenevo a fare una domanda che faccio sempre ai miei ospiti in particolare al presidente dell'associazione perché fai volontariato perché lo faccio io perché è troppo bello mettersi a disposizione per la propria comunità in qualsiasi ambito dico in qualsiasi ambito perché io un po' per l'età e un po' per la disponibilità di tempo non sono in grado di fare il volontario effettivo come fanno tutti gli altri partecipando alle attività di soccorso trasporto formazione però mi è stato chiesto di mettere a disposizione la mia esperienza in questo ambito e lo faccio proprio più che volentieri purtroppo il nostro tempo è scaduto io ringrazio tantissimo i miei ospiti quindi Renzo Sandrini presidente e Alessandro Gamba e io vi saluto vi do l'appuntamento alla prossima puntata dell'infinito dentro un bisogno buona serata grazie a tutti grazie a tutti